Me ne ricordo ancora gli applausi, me li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita. Mi ricordo una sera, levai la cappatoio e casco il mondo per ascoltare i calzoncini. Mi ricordo tutti i K.O., tutti i ganci, tutti i jepp e il sistema prigione per fare una bella cura di immagrante. La mia non è stata una vita squarlida. Anch'io ha avuto. E mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recita come fate con l'Aurizio Lever quando recita Shakespeare. Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo, sono sei mesi che non ne becco uno. Ma io non sono Lever, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare se con Shukal si misurasse chissà quando non pigliasse. per cui datemi un'arena già che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo. Questo è spettacolo.